E' di Simone Tranquilli, detto Quinti, e sente ora, non c'è più lock, in giro non c'è più lock, la gente non campa più, siamo in stato di shock, l'ha detto anche la tv, su una fila di ban, dicevano dai fornari, non ci si mette le ban, è come una Ferrari, la penza non parla, è quasi come loro, or non dite il metà, e gli giri del contatore, riguardo il Dammagnà, meglio cambiare argomento, la spesa dobbiamo capire un bel finanziamento, il latte, l'ova, la frutta, lo fate da qualcuno, si lo darà con la tutta, ma hanno messo a capo, l'andazzo non è bello, se questa è la tendenza, sto pari in filcarello, tocca portare pazienza, mangiare per la città, suve mattinoni, a di la verità, ce n'è in parte milioni, e la domenica sera si vaga in pizzeria, c'è sempre la fila a mora, che arriva a casa mia, allora, mi abbiamo pensato, che c'è qualche signor, che spara una cazzà, e piangono senza dolore, ma chi tocca andare in banca a fare un prelevamento, però porta una pistola, se no, non mi danno niente, se la spiga che mi ritrovo, mi dicono di sicuro, perché come mi muovo, la fai sempre nel culo, e dato che la galera, da fanno subito la penitenza, mai fora senza una lira, che non ha il banese in astinenza, Simone, tranquilli, grazie grazie